Acuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Chimero 89 Siamo su Call of Duty, siamo in modalità EXO Ma non sono da solo, sto con quei due capoccioni di quei due sul server Ciao ragazzi Buonasera, buonasera signor Ciccio Noi siamo qui pronti a difendere l'indifendibile, cioè COD Esatto, esatto E tra l'altro sono davvero contento di rifare una coppa con voi Perché ci sta davvero a bestia In particolare su questo bel giochino, giusto? Esatto, anche perché questa modalità è veramente ricca di spunti Per una bella... Tanto io e Reder ci spariamo nelle orecchie a vicenda senza motivo che sia uno A me serve un mirino, io ve lo dico, se non ho il mirino crepo Io sono fatto così Allora, c'è la cassa delle armi qui in giro E dopo un certo numero di uccisioni guadagni i punti per ampliare la strumentazione Che poi tra l'altro i miei iscritti mi fanno Ma Ciccio ma non ci fai la modalità EXO, vogliamo vedere come te la cavi E come qua, hai visto? Cioè siamo cascati proprio a fagiolo Siamo cascati e quindi siamo qui insieme Più co-op di così poi Mamma mia, cioè voglio vedere accessori arma Il mirino laser giustamente ce l'ho bloccato a livello 4 Posso prenderlo a livello 4 Non metto altri mirini Io mi sono cambiato armamentario Adesso ho il super mega giga laser che spacca i culi a tutti quanti Meno male Meno male Aspetta che mi devo cambiare fucile però Ah no, io pure a round 5 Eh no, questo mio round 11 E quando ci arriviamo a round 11? Non ci arriviamo No, ma non ci arriviamo perché è veramente tost E poi adesso io vi dico una chicca che magari non sapevate o magari la sapevate Se si fanno tutte le modalità EXO Tutte, tutte, tutte Ah, mi ha arrivato un fucile in faccia Ahia Se si fanno tutte le modalità EXO Si libera la modalità zombie Nooo, davvero? Sì Memorragia, mannaggia al cazzo Beh sì Ma l'ho detto È che sono Sono informato su questa cosa E allora dobbiamo Dobbiamo arrivare Lui è scazzo È quasi impossibile Oh Ma la modalità Ma la modalità zombie che ci sta nella modalità zombie? Cioè ci sono gli zombie Zombie tecnologici No, 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 no Zombie al vecchio stile Cioè vecchio stile Al nuovo stile che a me non piace Quelli veloci E cattivi Io li voglio lenti, stupidi e tanti Che sono pure divertenti Esatto Io voglio quei zombie là sinceramente Alla Resident Evil Resident Evil Ragazzi abbiamo delle torrette da piazzare Visto che ci siamo accampati qui Ma qua? Dove? Qua? Che torrette? Ci possono mettere torrette Vedete un po' se ce l'avete Non credo di avere torrette No Io ho un avvio Cioè Io ho il goli Sì Eh no Lancio di supporto io Ancora ce l'ho Io c'ho il golia L'hai visto il golia tu? Eh l'ho visto una volta un nemico con quello là Allora guarda te lo faccio indossare a te È arrivato Grazie Vieni qua Sei troppo gentile Ahia mi spareno però Mi dovete dare una mano Dove cazzo sei? Oh sto diventando Robocop Ah ah ciccio Robocop Guardate qua Ecco qua Bella ragazzi Ah 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 vai ciccio Questo me lo posso portare a casa Spacca tutto adesso però Io me lo voglio portare a casa Uh mio dio Che l'ho messo nel sedere Oh oh Attacco con nano sciame Abbiamo fallito Ma perché falliamo le cose? Perché non leggiamo qual è l'obiettivo Come stronzi Oh cazzo Che cazzo sta qua? Chi? Eh abbiamo fallito una cosa Adesso arrivano i nano sciami Che non so che cazzo sia Oh son contento I cani I cani Arrivano i cani Do cazzo stanno Eh guarda Te lo ammazzo io sti cani di merda Voi ammazzatemi quelli veloci Io penso a questi che vengono qua davanti Ok Dai 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 Oh i cani La troia Ho cagato sotto Io l'ho detto eh Io mi metto qua Sto a campera tantissimo Che poi ragazzi non sappiamo Quanto registreremo Cioè potremmo fare anche 78 video Perché magari Entramo in pappa E se fanno tutte le orde Cioè nel senso Eh sì Io ho i miei dubbi Che riusciremo a farci più della settima orda Però vabbè Ci proviamo ragazzi Io stai con Ciccio che per 89 Eh capito Ma tu pure stai con noi Quello è il problema Ma pure Ho round completato Siamo contenti Ma tu Guarda Ciccio Robocop Aia Teded sinergo Datemi un bacio Ma 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 Ho fatto veramente bene Sta cosa A me lagga il gioco Ho fatto abbastanza schifo È un conto No è bello Proprio manca poco E mi si rompe Sono sicuro Quindi Ah prima che ti si rompe Esci Esci, cioè fai l'autodistruzione perché sennò ti si incula e muori Ok Sei morto Ma no, ma non ho fatto l'autodistruzione Non ho fatto l'autodistruzione, mi hanno trovato una bestia No, no, non ti abbiamo trollato Io spero che adesso tu riesca perché sennò siamo No, ci sto, ci sto Però, però io ho fatto quello che mi avete chiesto Forse c'è un tasto per uscire senza autodistru... Potrebbe essere Oh, ci stanno gli uccelli Sì, questi sono chiaramente uccelli, non è che Guarda, fanno pio pio Aspetta, fatemi prendere il mirino, ma che così almeno... Ok, accessori arma, mirino laser Oh, stiamo scherzando adesso Ma non lo voglio il mirino laser, mi fa cagare uguale Voglio un mirino, non il mirino laser Mamma mia Allora, io intanto mi prendo le granate Ma non funziona quest'arma, che cazzo è rotta? Io non trovo i piccioni purtroppo Io li trovo ma non riesco a ucciderlo Ma perché così o no? Oh, cazzo, 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 cazzo Che è stato a faù? Oh ragazzi, a me non mi funziona Che cosa? L'arma, se fosse rotta C'è stato il supporto da qualche parte Però non so dove... Eccola Io vi sto facendo i cazzi miei ragazzi, arrivo Bello, voglio questo, voglio Prendo il Goliath ragazzi Vai, vai Bene, bene così, bene così Dai, fai il Titanfall Oh, abbiamo già fatto Attacco missilistico, c'è la torretta Che figo Attacco missilistico Ti ho visto entrare, ti ho visto Bello, eh È la prima volta che uso il Goliath Ah, yeah È bello Quindi se non spari con mirino Miri veramente male con questo coso Sì, spara, spara cazzo Ah, devo andare sull'ottica È male che me ne sono accorto da solo Perché se no i miei fan mi avrebbero ucciso F, F Premete F, F Che partiamo per i dieci secondi prima Oh, round disinnesco Ragazzi, correte verso le bombe Alla già il cazzo Io sto andando verso la bomba di dietro Voi andate sulla mappa dove stiamo Ok Mantenete premuto F quando è Sto disinnescando la prima, ragazzi Ok Ok, va bene Ok Faccio, ti guardo le spalle Tu fammi spazio, io disinnesco Ok Ok Oh, c'è gente Dov'è la bomba? Eh, da noi pure tanta Tacci sua Eh, ma io sto solo? Eh, lo so Ai, ai, aiuto, aiuto, Golia Golia Muoiono, muoiono, non ti preoccupare Ah, ecco la bomba L'ho trovata Io vado quella giù Ok Golia, vedi che cazzo devi fare Mi stanno a sparare Ah, Golia Che a me no Eh, ma a me io sto sto Ok, disinnescata Grandi ragazzi È la prima volta che vinciamo una battaglia Oh, sta arrivando il Antischegge, sovraccarico, prestigiatore, resistenza Raga, non potete capire la roba che c'ho Le ricompense No, mi sei esploso il cazzo che lo prego Sei morto? Sì Vabbè però sono rientrato Torretta, bombardamento Torretta Prendo la torretta remota ragazzi Io c'ho un sacco di roba Ma c'ho proprio tanta roba c'ho Eh, c'ho tante ricompense Ottimo Andiamoci a mettere il nostro bosticino d'onore lì va Esatto, esatto Sto accorrendo Sto accorrendo Praticamente non stiamo dicendo apertamente che andiamo a camperare come la merda Però in quello che Potrebbe essere ma Insomma Perché Ah io non so un cascuto Son cascuto Manuto Manuto Io adesso faccio una cosa figo Figo, molto figo Pianto una torretta qua E Goliat alleato online No merda ho premuto il tasto sbagliato Arriva un Goliat Se volete utilizzare un Goliat Lo prendi tu Redez? No vai vai, se ti piace prendilo pure Vai No perché poi ci muoio sti cazzo Non lo prendo Ho previsto non prenderlo, grazie Va bene Se se Guardate Guarda la torretta quant'è sgrava Sta fa danni a rotta di collo proprio Di vostra Ma perché mi viene voglia di andargli addosso Non so voi Oh, occhio a dire Ma la torretta è quella manuale o quella? No, è sia manuale che automatica Fai i cazzi suoi praticamente Ho capito Cominciano ad arrivare i tizi un po' più No, quelli un po' più corazzati Con l'armatura un po' più tagliata Qual è il nostro scopo di questo round? Quattro nemici rimasti, quindi è abbastanza easy Dai, è così, devi morirci anche tu Tu ci muori, ti ho salvato forse, non lo so Dai, sali Dai, sali Ciò sta? Ah, è morto Oh, ce l'abbiamo Oh, va bene Questa è andata veramente facile Questa è stata liscia, eh Questa qua è stata Allora, FF e andiamo subito alla prossima Già fatto Andiamo a spaccare curi a destra e sinistra Assolutamente Dove è? Round 8 siamo già, dai Oh, i cazzi di invisibili ci stanno I cazzoni invisibili Ah, sono veramente problemi Ah, sono cazzi Ah, sono cazzi Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ce ne stanno Occhio dietro, ragazzi, occhio dietro Eh, no, ci stavo a guardare io da sotto Ah, cazzo Guarda sta merda, mi sta distruggendo la torretta Ci stanno, ci stanno Ok, dov'è? Aiuto ragazzi da dietro, c'è gente invisibile tantissimo Dove, dove? È invisibile Io non tolodi, però È invisibile Eh, sì Dobbiamo Però comunque posso dire una cosa? Oh, che cazzo Pezzo di merda L'invisibilità non è che sia fatta benissimo su questo gioco Cioè, nel senso Non li vedi veramente? No, cioè, li vedi, no, li vedi Cioè, hai capito come? Li vedi Infatti online non è che sia... Però se stanno fermi li vedi molto meno, eh Quindi ti possono inchiappettare quando vogliono L'invisibilità migliore che ho visto finora è quella di Titanfall È morto È morto Eh, quella... Quella sì Cioè, se ci fai l'occhio li sgami, altrimenti... È morta la torretta Ci ha difeso così bene Eh, sì, sì Era una cara amica No, dobbiamo riprendere una torretta adesso Come si riprendono le torrette? Non lo so Lancio supporto io? Ah, no, non ce l'ho pieno Ce l'ho così e così Quindi, eh Dobbiamo difendere quel punto, ragazzi Dov'è? Oh, cazzo Corriamo Venite, venite Corriamo perché questi... Gli obiettivi secondari che ti arrivano li perodiamo sempre Tranne, tranne... Eh, minchia, bomba Madonna, io lancio le poteche, non ho quattro sti cazzi Eh, adesso ci sono questi qua che fanno gli scatti di lato Sono veramente dei cacacazzi Arriva, arriva la... Il potenziamento Oh, merda, bomba Cazzo, sono quasi... Non si capisce niente, ragazzi Vado al bombardamento Non vedo la lancia, sto morto Ah, ah, lancialo Ah, sto, sto, è morergia Ciccio, ciccio Ciccio, stiamo morer... Aspetta, voi rimanete... Nooo... Abbiamo sbagliato a venire di qua, dovevamo campera come le merde come prima Eh, sì Cazzo Guarda sto bastardo, sì, ma io non mollo, io ci voglio riprovare Beh, certo che ci riprovi Beh, ragazzi, io direi di interromperlo qui questo Gameplay Noi ci vediamo al prossimo Passate dai nostri canali, mi raccomando, link è in descrizione E... La prossima volta spacca i miei culi, ragazzi Esatto, e buon Natale a tutti È vero, buona bevana Grazie a tutti